Il Signore Dio Onnipotente 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 cominci a vedere le cose you are seeing things can you touch my nose tocca il mio naso alleluia oh yes sing more and more clara, clara, mask clara vedi più chiaramente leggi questa scrittura per me puoi guardare e vedi l'agnello che stava in piedi sul monte no alleluia alleluia ok thank you very much grazie mille thank you very much grazie touch my hand touch my hand tocca le mie mani tocca le mie mani tocca touch my hand touch my hand touch my hand touch my hand tocca le mie mani halleluia 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 oh yes oh sì clef halleluia 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 piano piano ask him open è aperto è aperto yes 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 aperto è aperto tutte e due chiuso poco poco aperto poco aperto a little open in this part a little open today e qui adesso che è aperto e adesso e adesso che è aperto just now qui adesso adesso è ora che è aperto un pochettino è aperto adesso adesso è aperto un pochettino questo orecchio che cosa è successo io sono venuto per la guarigione dell'occhio e dell'orecchio io sono venuto perché ho stato scelto di miei occhi e di miei orecchie tu hai stato scelto sei stata guarita halleluia halleluia mio padre sì non ero 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 maio miei signori questa ragione non ero non ero non ero non ero mio signore questa donna aveva problemi dermi dello spirale non riusciva a piegarsi ma ora il signore mi ha guarito qual è la cosa che lei non riusciva a fare lei non riusciva a piegarsi tu lo conosci in quella condizione per quanto tempo cinque anni cinque anni cinque anni halleluia cinque anni cinque anni halleluia 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 Alleluia, 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 perché stai camminando così, guardate, guardate, perché fai così, 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 facciamolo insieme, fallo insieme al profeta, fai così, se fai così, guardate, I don't know what has happened, but let's just do it, I tell you, and if the tumor has been destroyed in the name of Jesus, the tumor is not there anymore, non c'è più tumore, the tumor is not there, Alleluia, 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 to which person? Quale, quale seno, quale seno, quale, quello sinistra, the left one, can you search for the tumor, search? Poi cercalo, 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 it is not there, it's not there, it's not there. Grazie a tutti.